Benvenuti in questo nuovo video di oggi raga, siamo con Giuseppe e Loris, raga salutate Ciao Ragazzi Loris ce lo conoscete, Giuseppe un po' di meno però fatti video con lui Quindi andiamo andiamo Se questo qua mette pronto magari Vabbè che mappa volete comunque Guardi ma questo è il livello 150, un pac-nack piccolo, pac-nack piccolo Se sono Gesù non raga, vabbè Raga dopo due minuti a Vincenzo che trova l'ultima cassetta di Tome che blocca Jason Savini Oppure Jason X No, Vincenzo ho scoperto che non è con le cassette perché ho conosciuto un altro Tutte le cassette non gli hanno dato niente Per Jason Savini dovevi donare 20 euro ai tempi Eh lo so che ho sentito il video però quindi no Guardi ma Jason Savini di come è fatto E' tutto di fuoco No e poi è il Jason X Eh Jason X è elettrico Eh lo so però ti cominciai a capire a sudoccare Eh Non lo so Allora C'è il nome raga se si può Io ho visto uno che tiene Raga qua si è tolto Aspetta voglio vedere un attimo Eh no no sta ancora il video sta ancora Raga Comunque c'è son X ho visto uno che lo tiene Cioè quindi Eh Vincenzo ti ricordi quando stavamo giocando insieme? No no dico su YouTube ho visto uno che lo tiene Ah eh ti ricordo quando abbiamo trovato Jason Savini Eh sì sì ma teoricamente bisognava del kickstarter Ma no però io sono un ucce e sono un ucce Ma non mi ricordo gridando il forchettone Chi è? Eh ci sono Savini Ah ci sono Savini Che l'ho tridente in realtà Ah beh Il forchettone è tridente Ah forcate è un forcone Il forcone E il forcone Il forcone Il forcone Mi dissocio No raga sta partita non si avvia Ah ecco ho parlato Ah non si sta biondo Guardi non vediamo di Jason Vabbè No vabbè vediamo Io ho visto già Ho visto già Pure io No di si vede Ma non ho visto No che non devono vedere Io ho paura che sentivate il rumore Che non sentivate il rumore Di quando vai nell'home Nella Playstation E chi lo fate con loro occupa Vabbè ragazzi Cominciamo nella partita Ok Chi sapessi nella casa grande? Io sono tornato Sì tutto Vabbè Se ragazzi Se starete vedendo Oggi mi so vissi il tuo video Ti ho messo mi piace Grande La carriera col Catania Raga Sto facendo Comunque la semi Alla sia un po' Vigiori C'era se migliorando di pericolo Quella squadra Eh Eh Chi sapete Vabbè c'è ancora molto da fare Vero È normale Sì sì Ragazzi Dove è la cabina per chiamare la polizia Che io Nella casa grande Se non mi sbaglio C'è Loris Ma il tuo amico Vabbè qualcuno c'è così da me Eh Io so la casa grande Te l'ho detto Voglio fare un tuo cilenzulo Che hai detto Vincere Eh Stavo dicendo Il tuo amico Aveva due le sia le cassette di Pamela Se vuole di Jarmis Sì Tutte C'è il suo cilenzulo Io so la casa grande Quando Giuseppe C'è il suo cilenzulo Uh Coltellino Oh ma ci sono Vissi Vincere Eh Sì È un luogo Aspetta Vincere Ma no 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 Ho visto Troppo E che cazzo Vincere Ma c'è il confo Per il fusibile Eh Non lo so La lista Vincerebbe L'amere Sofforito Eh Cassaggese Non riesco a correre un poco Aspetta C'è ricarica Stando Guardi Ragazzi Vado a mettere La benzina Nella macchina Da quattro posti Ok Oddio Oddio Non sono ritrovato avanti Figgio Vincere Merda Tutto Non l'hai spattuto in terra Mi c'è La rischia Non ho messo la benzina Ok Anni chiamati Tommi Jarvis Eh Hai colore Stratto Alessi chiamalo Perché sto a morire Sto per morire Ci vogliono Non tegnare Già Non mi ha mai Non mi ha mai Non posso dipendere Mi dispiace Eh vabbè Sono io Tommi Saraggioni Saraggioni Di che cilì Giuseppe Tommi Tommi Sto vedendo lois Ma non mi hai visto Sono camperato dietro il cammino E non mi ha visto Ma tolo dopo Spurrare in bocca Giuseppe Giuseppe Eh sì sì Eh sì Anomale Che c'è ancora da te E la mia C'era volta Può essere anche La seconda persona Che morire Arriva subito Arrivo Arrivo Che hai detto C'è A volte Può essere anche La seconda persona Che muore Dica uno spray Lo vuoi Aspetta Dici A volte Domi Jarvis Può essere anche La seconda persona Che muore Esatto Non per forza La prima E' capitato Capitato Variate volte Che sono morti Prima è capitato Che era nel quarto Che sei morto E sei diventato Tom Esatto Ben se sta qua Su simone Io lo vado a pushare Su bastardo Ha situato In emergenza Vincere Venga 20 qua Ok Perca 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 Quando 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 facevi video Su benedì Su benedì E' Era il prime Del mio canale Capo Scopo Scopo Ho sparato L'inizio E' Un po' Un po' Più Dall'inizio Però L'aer Prime Aspetta Milano Se arriva Da me No Buciano Scrivi una casa A cazzo La lista Mi vuoi seguire Ti porto Dal fusibile Dove si trova Sempre Vieni con me E' Alla casa Già Non Lo so No Sto fuori La tua porta Però Già Stata Uno Sì Andiamo Allora Senti Allora Senti Giò Sì Ma Ti porto Io Ma Stai Tante Che Questa Che Questa Bene Vieni qua Scappa Subito Quanto 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 Siamo quasi arrivati E' presente come stanno Quelle due Sbaglio Alla Da quelle cose La stanza Eh Dopo L'era La stamina Ma Dove L'umare Che Mi Ti ha Visto Corre Tantissimo Vabbè Adesso Ti potete Vire Pronto Soccorso Uno Fry Allora Allora Scappiamo Scappiamo Vieni Mariolo Scappa Subito Bene Gio Un coltellino Ok Lariss Non Aviamo Pure La Pula Chiali Quando Devi mettere Il fusibile Deve Venire Sempre Eccolo Eccola Trappola Salla Trappola Fra Eh Non Vedi Giù Dai Non Vedi Però Se Ci Vai Sulla Trappola Posso Fare Così Posso Fare Così Posso Fare Questa Cosa Qua Come Cazzo Difendimi Vai Util Guarda 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 Coprimi Ok Nob Vai Una Vida Quello Allora Prendi Prendimi 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 Ai Prendimi 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 Vabbè Lo veniamo Dato Prenditi un'arma Prenditi un'arma Tenevo Prendimi 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 Non se lo dava più il coltellino Prenditi un'arma Prenditi un'arma Prendimi Prenditi un'arma Prenditi un'arma La macchina Come Andara La Devo Si Prendimi Un'auto Di Merda Allora Non ci preoccupa Chiamato io Lavoro Quindi In caso Può pure Spaccare Allora La Non è che sta per 4 minuti La Non è che sta per 4 minuti La Sta venendo qua la tizia Perché Non dire Che è dovuta venire qua Perché sta Chiesa No Voglio Se Fumata Magina Che Perché Andata qua Bisogna Di mettere sotto Te lo dico io Leva Oh Questa Nei Eh Vuoi Giustano Do mette sotto Questo E via Via Questa qua Si è messa nel posto Pagliore Si è messa nel posto Pagliore Vai avanti Oui Oui Fata il posto Giuseppe Fata il posto Giuseppe Vai Possiamo andare Giuseppe Giuseppe Raga Poverino Rip Giuseppe Giuseppe La pula Comunque Ti ricordo Giuseppe Appare con la pula Magari 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 Giuseppe Io non lo sento più Nemmeno io Vincere Quando ci mangiare Vincere 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 Quando ci manca 10 minuti 3 minuti Che arrivano Sono E mi Nuovi Vincere Non è Noi Noi Non è 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 raga ma non è un nome simile vedi era e si vede hanno un nuovo a te infatti no sì sì su amici ma perché su amici che mi ha fatto morire però potete ucciderla c'è la festa di giuseppe va nella casa si che si fa perché giuseppe si è nascosto nell'armadio non immaginare cosa d'arma credo in comprensione che stai da solo di fare anzi che ci va ti aggiungo da polizzi va bene io qua sento puzza di di teaming è pure io perché c'è strano oddio se c'è tonalare della massa su video farà poche visualizzazioni questo è vero sicuramente farà poche visual godo il voto della volta in faccia si lancia e già sono poi la prende c'è adesso io sono nascita la casa ma prende vedere anzi noi sono in realtà gli fa la finta le va di qua anche la riva la finta non ci si vada dove deve questa partita da spedire questo video si chiamerà partita da spettatore eppure partita con player che timano ragazzi mo faccio aggiustare la cosa loris perché loris ha un problema che ne video la durata che durato secondi video però dopo te lo faccio aggiustare questo capito ok io ho start un video e poi subito si chiude perciò io non sto pubblicando più video perché questo è il problema start un video e dopo pochissimo si chiude perché se non era per questo il video li mettevo ma i video li mettevo li mettevo ancora soltanto io ho visto un jason correre come uno sfrenato succede poi però mi sono rotto le palle di questa partita se mi ultima un voto no ma dove gli è il coltellino io mi dissocio oddio ma prende la trappola e vedi se si passa dalla prende la trappola a punto ti apri branches mi dà prendi la trappola gogo Aspetta E' bello che cosa c'è sono ai capelli Che? E' bello che cosa c'è sono ai capelli Infatti Ma secondo me Ti dico una cosa E' lo stesso player da due account Perché a me capita Che succede questo fatto Vabbè Ragazzi io se saprei fare Una buona cosa Se avrei la face rival Farei la reale Però non posso Riprendere la mia faccia Comunque però se Questo video Ah Lori Se questo video arriva A 1500 like Faccio la festiva Non arriveremo mai Addirittura Più dei tuoi iscritti No c'è un video che ha fatto 45.000 E con le visualizzazioni E' tra Di quanto tempo fa? Due anni fa Ecco Tu Tra due anni Andresti a rivedere questo video Perché hai buttato? Eh Vabbè Comunque ragazzi Spegniamo il video Cioè ovvero Spero che questo video Sia piaciuto Lasciate un bel like Un bel commento Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti